Molte specie animali si sono adattate immediatamente alla presenza dell'uomo, sapendo utilizzare per loro utilità i prodotti dell'attività umana. Per esempio l'etimo del colombo sembrerebbe per alcuni autori venire da columna perché questi uccelli usavano le colonne per poter nidificare. L'attività di cacciatore dell'uomo, prima ancora che l'umanità inventasse la pastorizia e soprattutto l'agricoltura, era sfruttata da animali che si cibavano di carogne o che tendevano, come probabilmente gli avvoltoi e le iene, a seguire i primi cacciatori. Anche se, secondo alcuni punti di vista, l'uomo all'inizio è lui a rubare le prede a grossi felini che le hanno abbattute, un'opera di scavenger. A partire dalla comparsa delle prime città, noi abbiamo delle specie animali che si adattano alla presenza dell'uomo. Il più classico di tutti è il cosiddetto topolino delle case. Prende questo nome perché vive nella casa dell'uomo. Addirittura sembrerebbe che questa specie di poche grammi, un maschio adulto di grandi dimensioni, arriva a 25-26 grammi, abbiano navigato su delle grandi zattere con le quali gli uomini dell'epoca illitica portavano le massi di pietra silicea con le quali costruivano i loro raschiatoi e i loro manufatti illitici. Poi con l'agricoltura ovviamente c'è un proverbio dove c'è grano c'è topo, il topo, il ratto si sono espansi. Gli ecologi a partire dagli anni 40-60 riconoscono nel termine commensale una caratteristica di alcune specie animali. E quindi per arrivare in tempi storici, gli animali che siedono la mensa dell'uomo diventano sempre di più quegli animali che mangiano l'immondizia dell'uomo. Inoltre la città crea un ambiente dove i predatori, come le volpi, come i falchi, si adattano male e quindi assieme alla disponibilità di cibo, di luoghi per nidificare come gli anfratti o di altre, di calore per esempio legato al riscaldamento, gli animali trovano riparo dai predatori. E soprattutto arriviamo in un'epoca di grandi consumi alimentari con una parte del pianeta nel quale si consuma di più e si butta sempre di più ed entrano progressivamente in città accanto ai classici roditori che diventano anche loro nemici dell'umanità. Nelle regioni povere del mondo le culture che nascono sul riso, sul grano, sul mais temono il roditore come il loro peggior nemico insieme ad alcuni coleotteri che mangiano questi semi. perché se viene attaccato d'inverno il granaio la popolazione può estinguersi per morte di fonte. Quindi con l'aumentare delle immondizie negli anni 60, 70, 80, 90, nel primo decennio di questo sprecone millennio entrano in città legioni di cornacchie in qualche zona le gaze, gabbiani di dimensioni sempre maggiori, animali che imparano a stare vicini all'uomo semplicemente perché l'uomo non li disturba e poi per un fenomeno esplosivo di imitazione se i soggetti più timidi entrano in città gli altri vedono che questi soggetti stanno in qualche modo bene. Infine la città globalizzata diviene il luogo dove il turista importa pappagalli dai suoi viaggi, il mancato turista compra pappagalli o compra ragni o compra scorpioni o acquista aquile, questo è un fenomeno classico nel centro Europa, nel nord Europa e quindi la città si popola di animali. Non a caso oggi Roma è piena di pappagalli che sono semplicemente sfuggiti dalle condizioni di cattività di gabbia e si sono acclimatati in questa città. Grazie a tutti.